Per mesi e escrementi sono andati direttamente nel fiume e nel mare, ovviamente tutto ci è stato tenuto nascosto come cittadinanza e nonostante una cura di cavallo di Oxi Strong, cioè questo disinfettante che viene buttato, bisogna anche capire quanto e se era legittima la modalità utilizzata, ma non voglio contestarlo perché manchiamo anche di documentazione per poterlo fare in maniera seria e col conforto di tecnici e specialisti indipendenti, però una cosa è certa, che dopo tutto questo Oxi Strong è stata talmente tanta la quantità di escrementi finita in mare che sono stati superati comunque i limiti di legge rispetto all'ambalneabilità. Ed è gravissimo, è non inutile che faccia l'offeso, il sindaco e la sua corte miracoli. Se l'avesse fatto Mascia il PD avrebbe già chiesto le dimissioni o l'impiccagione. Il sindaco come autorità sanitaria doveva mettere il divieto di balneazione e basta, fino a che sempre sulla base della legge fossero venuti meno i problemi relativi alla balneabilità dell'acqua. Non averlo fatto sulla base di presunte intuizioni è una cosa di una gravità estrema perché ha a che fare con la tutela della salute dei cittadini, che viene prima di qualsiasi interesse economico.